Buongiorno a tutti, un brevissimo video da Arduino Schianato Yardforex perché vorrei dirvi che giovedì e venerdì prossimo sarò all'ITF di Rimini, quindi la grande fiera del trading, sarò in compagnia di qualche amico e nei pressi dello stand di FXEM, quindi con gli amici di FXEM che è uno dei più grandi broker al mondo e quindi se volete ci possiamo conoscere lì o se già ci conosciamo fare due chiacchiere riguardanti appunto il trading e tutti gli aspetti del trading, bene quindi vi aspetto, speriamo di vederci e ci vediamo appunto a Rimini in quella bella location, ciao a tutti da Arduino Schianato Yardforex